Rinforzare ed espandere la capacità nucleare del Paese perché il mondo capisca. Non sono frasi prese da un libro di storia sulla guerra fredda, ma le ultime dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump. Un messaggio che il prossimo inquilino della Casa Bianca ha espresso attraverso le reti sociali e che giunge poco dopo la dichiarazione del suo omologo russo Vladimir Putin, che ha esortato le forze armate a rafforzare il potenziale nucleare. Putin ha detto che le forze strategiche convenzionali debbono essere portate a un nuovo livello qualitativo che permetta di neutralizzare qualsiasi minaccia contro la Russia. Possiamo affermare senza dubbio che oggi siamo più forti di un qualsiasi aggressore potenziale. Detto questo, se ci rilassiamo anche solo per un attimo le cose potrebbero cambiare. Lo scorso luglio la Nato ha approvato il dispiegamento di quattro battaglioni multinazionali, fino a mille uomini ciascuno, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, di fronte a un possibile attacco russo. Grazie.